Harold fissò con diffidenza il porridge. Pensavo che almeno oggi ci avrebbe fatto una bistecca con le uova. Crepuscolo è un affresco di questo paese Holt con vari personaggi che si muovono, varie umanità che si muovono e poi convergono e si iniziano ad intrecciare. I punti di forza di quest'autore sono molti, nel senso che mentre lo si legge c'hai da una parte una malinconia enorme e quindi stai all'interno della fattoria dei tuoi anziani, stai all'interno della roulotte di questi due ragazzini, stai proprio vicino a loro, non so come dire, e questo senso di vicinanza mentre lo si legge fa sì che istantaneamente si crea un'empatia enorme e insieme c'è anche una leggerezza. Le sue descrizioni sia degli anziani che dei ragazzini te li porti a casa, ti viene da occupartene tu. Instaura subito un sistema di compassione con questi personaggi per cui tu te ne innamori follemente e soffri con loro, gioisci con loro, mentre senti che sta per avvicinarsi un qualcosa di doloroso oppure di simpatico, quattro righe prima tu stai già lì e dici, oh mio Dio, adesso che succederà? Perché stai veramente vicino ad ognuno di loro. Quindi questa malinconia, insieme a questa grande leggerezza con cui ti scrive soprattutto i ragazzini, forse fa ritornare ognuno di noi, più piccoli e ci preannuncia quello che saremo quando saremo anziani. Oramai come in questo caso, questo libro penso che sia veramente per tutti e per tutti significa, per tutti in questo periodo proprio, proprio questo periodo qua. perché è un libro che può aiutare moltissimo chi si sente in grande difficoltà, è un libro che può fare da specchio per le proprie paure, per le proprie insicurezze, per le proprie difficoltà, anche economiche, anche di vita, anche di relazione. È un libro veramente per tutti, per tutti, dai 15 anni ai 98, non so come dire, a qualsiasi livello economico e culturale uno sia, perché ha un grado di semplicità che è impressionante anche. Quando non ci sarò più, mangerete quello che vi pare, so che lo fareste comunque. Perché mette in modo veramente il meccanismo della compassione, che nell'immaginario collettivo è un sentimento noioso, è un sentimento che ha a che vedere con qualcosa di negativo, mentre invece la compassione è quella cosa che fa sì che tu ti preoccupi di un'altra persona, ti preoccupi e non solo hai paura di quello che succeda a quest'altra persona, ma fai sì e operi e ti attivi per far sì che non gli succeda niente di male prima che gli succeda. E questo in un periodo in cui siamo molto chiusi su noi stessi, nelle nostre paure, nelle nostre insicurezze, nella nostra proprietà privata, penso che possa essere molto utile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.